E' importante oggi essere qui per valorizzare il pomodoro di Pachino nel mondo, è un progetto di cui già stiamo parlando da mesi con il Consorzio e anche con McFruit, questo appuntamento è importante grazie anche alla presenza di fondamentali buyers internazionali della grande distribuzione, questo va nel solco dell'attività che l'agenzia ICIA sta sviluppando in questi anni e che ha trovato anche con il nuovo governo ulteriore impulso e ulteriore spinta per non solo garantire una maggiore autonomia nell'approvvigionamento agroalimentare dell'Italia ma anche per valorizzare le nostre produzioni all'estero, quindi l'occasione è giusta e sono convinto che i produttori di Pachino la sapranno cogliere a me lì.